Sono contento perché già da quando era uscito il calendario, questa qui era la partita col bollino rosso. Noi avevamo preso anche una bella batosta, insomma è stata una giornata molto lunga. La giornata lunga fa però tornare il sorriso in casa della Diatec Trentino che supera per 3-0 Monza. Gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia e si qualifica per la Final Four di gennaio. 25-23, 25-20, 25-18 i parziali dei set, 1 ora e 20 minuti di match, in un crescendo degli uomini di Lorenzetti che sono stati trascinati da Luca Vettori e dal serbo Kovacevic. Non cerco un alibi però noi siamo una squadra molto nuova, allora non si conosciamo bene in campo, anche questo si vede anche di oggi, però cresciamo tanto secondo me e alla fine di stagione arriviamo. Felicità anche per il presidente Mosno. La soddisfazione è vedere la squadra in crescita che era prevedibile, dovesse durare un po' di tempo ma finalmente sta arrivando pian pianino anche il gioco. L'importanza di questa vittoria per Lanza. Serve molto per il morale, serve molto per quello che abbiamo conquistato, la ripresa dopo quella partita di domenica era importante perché dimostra che il potenziale c'è, dimostra a noi che possiamo ottenere tanto dalle nostre giocate.